70 progetti in gara da tutta italia oltre 50.000 persone raggiunte dalle piattaforma social oltre 2.000 visitatori unici al sito web oltre mille persone che hanno seguito l'evento in maniera continuativa tra presenza fisica e live streaming tramite facebook youtube e il sito web sono questi i numeri della quindicesima edizione del premio best practices per l'innovazione organizzato da confindustria salerno in collaborazione con la camera commercio di salerno e ospitato dalla stazione marittima di salerno il vincitore della quindicesima edizione del premio best practices per l'innovazione è medere srl di roma della categoria digitalizzazione vincitore invece della categoria tecnologie abilitanti 4.0 applicate al settore alla filiera turistico beni culturali the data appeal company spa di firenze vincitore della categoria agrotech blue tentacloss di bolzano a consegnare il premio antonio ferraioli presidente di confindustria salerno poi andrea prete presidente camera di commercio di salerno francesco seravalle presidente gruppo servizi innovativi e tecnologici confindustria salerno è felice delle femmine direttore generale banca di credito popolare inoltre sono state numerose le tavole rotonde organizzate nell'ambito di questa edizione del premio